Voglio parlare con voi adesso dell'assenzio, un'erba spontanea, anche lei, la troviamo nelle crepe dei nostri marciapiedi e sembra dire ci vuole anche l'amaro purtroppo o per fortuna. Assenzio o Artemisia absinthium è una pianta delle asteracee e ha una storia affascinante e controversa. È fratello della buona Artemisia che è dolce, benefica, lui invece è scapestrato, pericoloso perché è molto amaro, può essere tossico e diventare allucinogeno. Io ne ho trovato alcuni esemplari nella ghiaia nei muri che circondano la chiesa di Santa Rita a Torino. Eccolo qui, è un'erba che somiglia un po' all'Artemisia però si differenzia perché ha le foglie più tondeggianti, grigie, aperte come tre dita, i bordi sono biancastri e ha piccole infiolorescenze multiple e sembra nascondersi, basso, solitario perché sa di essere ambiguo, trasgressivo. Fu scoperto da un francese Pierre Ordinaire nel 1792 che ha capito che aveva delle proprietà speciali e ha venduto la ricetta alle sorelle in Rio che ne hanno fatto un distillato, la cosiddetta fata verde. E questo colore verde inquieta perché sembra davvero una pozione magica. Questo distillato contiene una sostanza che ha l'assenza, il tuione, che è una specie di droga. Tant'è vero che nel 1915 è stato messo al bando in quasi tutto il mondo e poi è recuperato circa 30 anni fa. E adesso questo decotto, questo ricuore ha anche delle proprietà curative. Diceva Dracula nel film di Coppola, la fatina verde che vive nell'assenzio vuole la nostra anima. Questo per dire le proprietà trasgressive di questa sostanza. Però l'assenzio poveretto è anche curativo perché è digestivo, tonico, toglie la febbre, è vermifugo. E allora ci dice che anche le cose inquietanti hanno una loro utilità. Anche l'amaro può avere un retrogusto dolce, può far parte di una cura. Quindi dentro questo strano binomio dolce amaro, se mi seguite, faremo un piccolo viaggio. Innanzitutto l'amaro definisce il dolce. Come l'ombra mette in risalto la luce, la cattiveria e la bontà. Abbiamo bisogno di un paragone per conoscere i singoli elementi. Infatti quando siamo di fronte a un opposto ecco che siamo perplessi e questo spinge a un movimento introspettivo per chiarire il contrasto. Quindi il contrasto ci fa conoscere. E spinge quasi sempre poi verso una scelta che può essere istintiva o ragionata verso il polo che ci piace di più. La scelta diventa libertà, forma, individuazione. Pensiamo a Kierkegaard che ha scritto un libro, Out Out, tutto sulla scelta. E diceva scegliere è l'espressione più alta e effettiva dell'etica. L'amaro è anche uno stimolo forte e noi amiamo le sensazioni intense perché aumentano la consapevolezza, il senso del nostro corpo. Anche se a volte sono fastidiose, vorremmo allontanarle, però sono utili. E allora guardate l'assenso, se ne sta mezz'ombra, vorrebbe camuffarsi nel grigio del marciapiedi, infatti ha una patina opaca sulle foglie che gli fanno perdere la brillantezza del verde, però per fortuna non riesce a mimetizzarsi perché mette un profumo acre e i fiorellini piccoli sono di un bel giallo che brilla alla luce. Anche profondità, le zone buio sono spesso nuove, inesplorate e di lì può emergere una fantasia nuova, un prodotto straordinario dell'arte. Quanto assenso hanno usato i poeti maledetti nel 1800? E scriveva Oscar Wilde, un bicchiere d'assenso non c'è niente di più poetico al mondo, ma che differenza c'è tra un bicchiere d'assenso e un tramonto? E così moltissimi pittori hanno ritratto proprio l'assenso nelle loro opere, come un momento di ispirazione e di trasgressione. Qui vediamo Manet, l'assenso, c'è quest'uomo tutto vestito di nero dove brilla soltanto il bicchiere. E questo è Degas, i due bevitori di assenzio, non si guardano, sono tristi, un uomo e una donna preso dai loro pensieri. E qui abbiamo Jean-François Raphaël, anche qui i bevitori di assenzio che chissà che viaggio stanno facendo nella loro mente. E questo il bellissimo quadro di Van Gogh, assenzio, dove gli uomini sono fuori dalla finestra e la centralità è proprio nel bicchiere, nel sentire. Ed infine Ramon Casas, che ritrae questa donna che beve assenzio, guardate lo sguardo, è inquieto, sa che sta facendo una trasgressione, fuma, beve assenzio. E questa è la novità, perché a fine ottocento incominciano a bere assenzio anche le donne. Il bicasso nel 1901 ritrae la bevitrice di assenzio, raccolta in se stessa, muta. Oppure Jean Berrot, anche qui, bere assenzio con una sedia vuota. La donna chissà a cosa sta pensando o cosa sta dimenticando. Quindi l'artemisia dolce e l'assenzio amaro sono simili, quasi a confondersi, due gusti, un solo sapore, ed entrambi medicinali. La prima rosata ride tra le erbacce visitata dalle coccinelle, il secondo si piega nell'ombra solitario. Eppure per la primavera sono entrambi indispensabili. L'amaro e il dolce, come nella nostra vita, non si possono dividere in modo netto, perché sfumano. E allora voglio lasciarvi con questo bel quadro di Vittor Oliva, il bevitore di assenzio, senza parole, perché ognuno di voi, guardando questo quadro, trovi il significato che più gli si addice. Grazie di avermi ascoltato e se qualche playlist vi interessa, continuate a stare con me. A presto!